caffetteria ristorante e pizzeria accessori e fai da te noleggio auto e moto a breve e lungo termine officina carrozzeria centro revisioni e ancora concessionaria moto concessionaria auto tutto questo è movi il primo mobility village italiano nuovamente insieme all'interno di car outlet automobili nuove a chilometri zero aziendali e d'occasione come sempre prezzo vero garantito il prezzo che vedete il prezzo che sentite anche in questa trasmissione di tutte le automobili presenti è reale senza false attese senza false pretese e poi attenzione perché per questo mese car outlet vi dà l'opportunità di acquistare la vostra nuova automobile con un'operazione irripetibile operazione cover francesco sì un saluto a tutti esatto una nuova formula di acquisto della vostra autovettura pensate in un unico canone avete tutti i servizi compresi a partire dall'assicurazione alle manutenzioni alla garanzia e anche alle gomme termiche la possibilità poi di avere sempre l'auto efficiente e la sicurezza del valore garantito al momento della riconsegna e allora questo amici è il momento di acquistare la vostra nuova automobile con l'operazione cover avete capito bene un unico canone un unico esborso mensile tutto compreso zero pensieri andiamo con le offerte qui da car outlet abbiamo tutta la gamma delle fiat tipo le chilometro zero in pronta consegna 1.3 multijet 1.6 multijet la 1.495 cavalli a benzina con la possibilità del gpl a partire da 14.950 euro disponibile col sistema cover unico esborso per tutto compreso anche le nostre jeep renegade i aziendali chilometro zero in pronta consegna vari colori disponibili a partire da 16.950 euro qui da car outlet cercate un SUV sportivo ed elegante stelvio ne abbiamo di tutti i tipi allestimenti benzina diesel in pronta consegna a partire da 29.900 euro parola d'ordine risparmio per acquistare la vostra alfa romeo giulia a chilometri zero o aziendale parliamo di motorizzazioni a gasolio o benzina ma parliamo di un prezzo piccolissimo pensate disponibili in pronta consegna aziendali con pochissimi chilometri o a chilometri zero a partire da soltanto 19.950 euro e pensate che con l'operazione cover potrete acquistare queste automobili con un piccolo esborso mensile tutto compreso. SUV dove il risparmio è veramente la parola d'ordine in questo caso perché a 10.550 euro potrete avere un Duster 1.5 DCI del 2016 con soli 67.000 chilometri con navigatore retrocamera e sensori di parcheggio. Altra occasione aziendale con soli 37.000 chilometri quindi automobile pari al nuovo parliamo di Ford EcoSport 125 cavalli prezzo compreso di navigatore tantissimi altri optional 15.000 euro. Ideale per la famiglia e introvabile sul mercato dell'usato una splendida Megane Sport Tour 1.5 DCI con 110 cavalli allestimento Energy Intense del 2017 bassissimo chilometraggio molto accessoriata 13.350 euro anche questa con il sistema cover può essere vostra con un piccolo esborso mensile. Auto tedesca l'avete riconosciuta parliamo dell'Opel Astra 1.6 CDTI 136 cavalli appena 50.000 i chilometri percorsi prezzo car outlet 11.450 euro. Ultimi pezzi disponibili in pronta consegna per le Panda GPL a partire da 7.250 qui da car outlet e affrettatevi perché anche qui ultimi pezzi disponibili le 500 ibride allestimento sport chilometro zero a 12.450 euro ultimi due pezzi disponibili in pronta consegna. Opel Corsa 1.490 cavalli solo 19.000 i chilometri percorsi pari al nuovo prezzo 9.950 euro. Non dimenticate che Movi è anche concessionaria ufficiale Mitsubishi l'intera gamma a disposizione. Esatto a partire dall'Outlander sia plug-in elettrica e GPL benzina anche la nuova SX disponibile veramente in vari colori e completa la gamma Mitsubishi la nuova Space Star a partire da 8.900 euro anche questa disponibile in vari colori allestimenti. E novità assoluta da oggi Movi diventa concessionario Subaru. Venite a scoprire la nuova gamma Subaru e in particolare la nuova XV, vettura all'avanguardia della tecnologia sia su sistemi di sicurezza come il sensore che rileva la stanchezza e il piacere di una guida 4x4 incredibile. XV a partire da 23.000 euro è disponibile con motore 1.600 benzina GPL oppure il nuovo motore 2000 e-boxer ibrido con consumi eccellenti. Insomma vi aspettiamo per toccarle con mano e per provarle su strada. Siamo in chiusura amici se non avete visto in questa puntata l'automobile che state cercando nessun problema visitate il sito internet www.caroutlet.biz e non dimenticate che solo per questo mese Car Outlet vi propone l'operazione cover. Esatto un unico sborso per l'auto sempre efficiente e ricordate al momento della sostituzione valore garantito. Vi aspettiamo per l'acquisto della vostra nuova automobile in Car Outlet. E allora amici avete capito bene qui trovate concessionaria auto e ancora concessionaria moto e poi officina carrozzeria centro revisioni noleggio auto e moto a breve e lungo termine accessorie fai da te ristorante e pizzeria caffetteria tutto questo e movi il primo mobility village italiano